Questo è importante perché gli architetti non esistono senza i clienti e il mondo dell'imprenditoria è un cliente importante, perché l'architettura non esiste senza le imprese che poi costruiscono, senza gli operai che stanno in cantiere tutto il giorno, senza il mondo dell'economia che investe, senza il mondo bancario che ci faccia credito, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci interessa mettere le bandierine sui progetti, ci interessa condividere i progetti. Questo Paese ha bisogno di condivisione, di cooperazione, non di separazione. Il progetto d'architettura per sua natura è condiviso, perché non esiste senza il cliente, non esiste senza l'impresa, non esiste soprattutto senza coloro che lo abitano. E soprattutto non esiste se a fianco dell'architetto non c'è un ingegnere, non c'è un agronomo, non c'è un geologo. Il progetto d'architettura è un progetto condiviso. Noi che rappresentiamo coloro che lo fanno, dobbiamo essere capaci di confronto e di condivisione. Questo è l'approccio politico. L'approccio invece sostanziale sui contenuti l'abbiamo sintetizzato nel progetto che noi chiamiamo di Riuso, che è l'acronimo di Rigenerazione Urbana Sostenibile e che è un progetto importante per il Paese che per la prima volta ha fotografato la reale situazione del Paese. dal punto di vista dell'architettura, della condizione del patrimonio edilizio, della condizione delle città e adesso con un nuovo rapporto anche del rischio idrogeologico. Il patrimonio edilizio italiano è in condizioni pessime. Il 70% dell'edificazione italiana è stata fatta dopo guerra e gli anni Ottanta e si avvia velocemente a fine vita. Abbiamo 6 milioni e mezzo di edifici che risiedono in zona a grave rischio sismico e quasi nessuno è in grado di resistere a un terremoto. Voi, ahimè, in Emilia-Romagna lo sapete. Abbiamo 1 milione e mezzo di edifici che risiedono in zone a grave rischio idrogeologico. buttiamo dalla finestra, perché in altro modo non si può dire, 24 miliardi di euro all'anno di energia che potrebbe essere risparmiata prima di produrla, anche con le fonti alternative. Prima si risparmia e poi si investe nelle fonti alternative. Abbiamo in generale un serissimo problema che riguarda tutti i cittadini italiani che sono tutti proprietari di case, all'80%, che hanno un'impennata dei costi di manutenzione e vivono in case sempre più inadatte allo scopo. Case, uffici, scuole, ospedali. Abbiamo delle città che non funzionano più, non funzionano più riguardo alla mobilità, non funzionano più riguardo al ciclo dei rifiuti, non funzionano più riguardo all'energia, soprattutto non funzionano più dal punto di vista della socialità. Questo è, in dieci parole, la sintesi di un lavoro di centinaia di pagine fatte dal Cresme, per noi, da cui abbiamo dedotto delle strategie, delle politiche e delle proposte che abbiamo condiviso con l'Associazione Nazionale Costruzioni, costruttori e legambiente, il diavolo e l'acqua santa che noi abbiamo messo insieme, sulla base delle quali proposte il governo, questo governo, ha cominciato a capire che un problema c'è, perché sul patrimonio edilizio, il patrimonio edilizio privato italiano è la garanzia del debito pubblico di questo Paese e per cui ha avviato alcune timide politiche come il piano per le città, che se non altro hanno rimesso in agenda l'ordine del giorno la questione urbana che è la questione, insieme a quella della sicurezza. Noi siamo, come dire, ancora prima di poter parlare della qualità dell'architettura, che è il tema che ci appassiona tanto, noi siamo ancora un passo indietro, siamo nelle condizioni di dover garantire la sicurezza dell'architettura, la salute degli abitanti che ci vivono dentro. Dobbiamo ripartire veramente dai rudimenti dell'abitare. È una grande sfida perché comporta essere capaci di tenere tutto insieme in politica integrata e per noi architetti essere capaci di rinnovare la nostra cultura tecnica e architettonica. Perché quello che ci chiedono i cittadini italiani sono case sicure, case che non consumano energia, case che usano materiali ecocompatibili, case che gestiscono alla fonte il ciclo dei rifiuti, case che insistono su spazi pubblici adeguati, mobilità efficiente, e digitalizzazione, tutto questo in un quadro di qualità architettonica. E tutto questo senza soldi, perché le condizioni delle finanze pubbliche le conoscete. Stiamo ripartendo dalla sostanza del problema e dalla sostanza della nostra missione che, come diceva Walter, è una missione professionale, nessuno di noi come dire, fa il missionario, dobbiamo guadagnare per noi e per le nostre famiglie la pagnotta, ma ha una valenza etica, ha una valenza di civiltà sulla quale il nostro impegno deve essere totale. la riforma delle professioni che, vedo qui, Gianni Boeri, che ci ha fatto, ha fatto lavorare gli organismi di rappresentanza per, boh, 30 anni, quasi, fortunatamente è un capitolo chiuso, almeno per quanto riguarda la legge. dico fortunatamente perché ha portato via un'incredibile quantità di energie che avrebbero potuto essere applicate su cose più importanti, perché stiamo parlando solo delle regole. La riforma delle professioni non cambia il nostro modo di essere architetti. Inserisce alcune regole utili, altre meno utili, ma non cambia i termini del problema né della vita quotidiana degli architetti italiani né soprattutto del compito della missione che ci diamo. Io non ho mai creduto che le regole possano cambiare la sostanza. Magari in architettura può succedere, ma non nella vita politica. Non credo che cambiare la legge elettorale possa risanare la politica di questo Paese. Non credo che la riforma delle professioni cambierà. Particolarmente il nostro mestiere. Credo però che le regole siano sempre un'occasione e nel nostro caso è l'occasione di ripensare anche i modi organizzativi, di servizi, la questione della formazione permanente, del tirocinio, insomma, di costruire un quadro più moderno e più adatto ai tempi del mestiere. Gli ordini non sono più quel club di gentiluomini a cui si iscrisse mio padre nel 1900, credo, 47. Erano, credo, 150 per tutta la Lombardia e i patti erano patti da club. Adesso solo nella provincia di Milano ci sono, credo, 12.000 architetti. Il mondo è cambiato, non è più lo stesso e gli ordini con grande fatica perché le risorse sono poche cercano di adeguarsi. La missione vera nostra è quella di far sì di non rappresentare una categoria ma una comunità. La differenza è che una categoria è legata da relazioni di interesse esclusivamente economico o giuridico. La comunità ha qualcosa in più. La comunità cerca di ragionare in termini anche culturali. La comunità ragiona in termini etici. La comunità si inserisce nel gioco delle comunità che compongono un paese.